Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Harry Potter, le battaglie di Hogwarts, gioco in edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Asmod Italia, che io ringrazio immensamente per avermi fornito questa copia per la recensione, perché è un gioco che da diverso tempo volevo provare. Si parla di un gioco cooperativo, collaborativo, quindi da 2 a 4 giocatori, non è prevista, almeno nel gioco base, una modalità PvP, quindi scontri fra i giocatori, ed è un deck building, ma non da collezione, quindi quello che comprate, che c'è dentro nella scatola e nell'espansione che usciranno, è quello che potrete tranquillamente utilizzare. Quindi non è un gioco da collezione, ma è un deck building, secondo me, veramente veloce per tutti, sia per neofiti, sia per gente anche più navigata nei giochi di carte, e un gioco fresco, divertente, per tutti gli amanti, secondo me, di Harry Potter, ma non solo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Come detto, Harry Potter, le battaglie di Hogwarts, in questa edizione che vedete qui davanti, completamente localizzata in italiano a cura di Asmo d'Italia, e con tutta la roba che vedete qui davanti a me sul tavolino, è un gioco, è un deck building molto veloce, quindi un gioco di carte, laddove dovremo andare a interpretare i personaggi più iconici della saga, che almeno in questo set di base, dove si può giocare fino a 4, sono Harry, Ron, Ermione e Neville Paschok. Andrete a interpretare i loro 4 e dovrete combattere vari nemici e cattivoni di Hogwarts in questa battaglia, che vi porterà appunto a salvare la scuola, ma soprattutto a cercare di tenere lontane le ombre di voi sapete chi, ma non soltanto di lui, di Voldemort o comunque personaggi del genere, ma anche con altri antagonisti che abbiamo visto nella serie, tipo Malfoy e molti altri ancora. Ed è bellino come gioco perché, come ho detto all'inizio prima della sigla, è un totale collaborativo, quindi qui si gioca per vincere o per perdere insieme, ed è anche interessante perché si parte con il regolamento di base, che è questo qui, dove ci sono scritte le regole generali per giocare, che comprendono poi il gioco 1. Però vedete ci sono 7 pacchetti, che praticamente sono tutta quanta la saga, tutti quanti i film, e ogni pacchetto ha delle regoline opzionali, perché ovviamente per i nemici che andete a combattere, o per quello che dovrete fare, le regole potranno variare un pochino, ma va sicuro sono più che altro aggiunte a regolamento base, e anzi è bellino perché si parte da un gioco 1, proprio per neofiti tipo me, che non sono molto avvezza a questi giochi, e arrivare a livello 7, proprio per giocatori magari più hardcore o veramente più competitivi, diciamo sui deck building. Ed è veramente molto interessante. Abbiamo il tabellone di gioco, e su questo tabellone, che è questo che vedete qua davanti, dove ho messo tutti quanti i blocchi delle carte, su questo tabellone dovremo andare a mettere le carte delle location, che saranno varie zone di Hogwarts, tutto comunque nei dintorni, le carte dei nemici che andremo ad affrontare, e poi soprattutto anche le carte evento, che dovranno essere pescate a seconda della location dove saremo in quel momento. E poi ci sono anche le planche dei giocatori, dei vostri eroi, dove sopra dovrete andare a mettere il conteggio dei punti ferita, e ovviamente poi sopra a lati mettere le carte equipaggiamento, e soprattutto le 5 carte che all'inizio di ogni mano dovrete pescare, quindi vi conviene usarle tutte, perché poi fondamentalmente ogni turno ne ripescate 5 nuove, che andrete a mettere qua sotto e che potete utilizzare. Vi potete anche consultare fra di voi, tanto un gioco completamente cooperativo, e poi saranno sempre tirate fuori delle carte in un pool comune qui accanto, che voi potrete acquistare con i punti che guadagnerete, o tramite evento o sconfiggendo nemici. Quei punti li potrete investire per prendere carte, e una volta comprata una carta, come abbiamo già visto anche ad esempio in Legendary Encounters, che ho qui dietro, più o meno stessa meccanica, quando acquistate una carta la rimpiazzate con un'altra, e la carta appena acquistata va nella vostra pila degli scarti, che quando sarà finita dovrete rimescolare, insieme al mazzo principale, e quella carta acquistata diventerà una carta del deck building, che potrete utilizzare. Quindi come vedete, la meccanica di deck building è questa qui. Non ci sono dadi, si usano carte, dove sulla carta c'è un fulmine, vuol dire che praticamente quel fulmine è un simbolo di danno di colpito. Non lo so, andate a combattere un Draco Malfoy, che ha 5-6 punti ferita, quando avrete fatto 5-6 fulmini, l'avrete sconfitto, e in fondo alla carta vi dirà qual è il premio che avete guadagnato. Le regole poi vanno avanti e si 100.000 virgolette, complicano un pochino, però comunque sono tutte quante piccole aggiunte che ogni volta inseriscono anche qualcosa in più, così che anche poi non sia tutto uguale, non fate tutti i capitoli con le stesse regole, ma magari piano piano la trama un po' si infittisce, e le regole diventano mano a mano sempre un pochino più ampie, perché poi fondamentalmente non sono per niente complesse. In conclusione, questo Harry Potter Deck Building Le Battaglie di Hogwarts, edizione italiana a cura di Asmod Italia, è veramente di una bellezza unica, ma perché la bellezza unica di questo gioco, secondo me che lo rende così particolare in mezzo a tanti altri, è la semplicità, ma soprattutto il setup. Visto che l'ho citato poc'anzi, un Legendary Encounters, che io lo adoro, per me è uno dei deck building più belli che siano mai stati creati, però per fare il setup iniziale della partita, se te non dividi le carte ti ci vuole un'ora. Un'ora a fare, vabbè ho esagerato, 40 minuti a fare il setup, e poi magari ti ci vuole un'ora a fare la partita, cioè il setup è troppo lungo. Qui è velocissimo, mazzo delle location, mazzo dei nemici da cui dovete pescare per vedere cosa esce, location che ti dice quante carte evento girare, e poi il mazzo degli acquisti. È veramente semplicissimo, le regole sono banalissime, il regolamento è scritto bene, tradotto ancora meglio, e poi veramente ha pochissime regole, quindi è un gioco di carte, veramente per tutti, mi sento di dire veramente, veramente, veramente per tutti, dovrebbero prendere esempio, perché comunque è un titolo fresco, veloce, e che secondo me potreste metterlo, magari, non proprio a tutti i tavoli, perché devono piacere, devi comunque avere un po' di logistica in testa, e tattica per usare le carte, però è un gioco che spiegate le regole, fatte un giro, per me ci può mettere al tavolo, veramente chiunque, che è la cosa essenziale di un gioco da tavolo, un gioco da tavolo non deve essere di nicchia, ma per me è meglio che sia un titolo per tutti, a Hero questo ci abbiamo fatto giocare, dal cuginetto, all'amico, al padre, al nonno, tanto dovevi tirare un dado, muoverti, attaccare, non ci voleva più di tanto, i giochi per me devono essere alla portata di tutti, e questo lo è assolutamente, io ringrazio ancora una volta Asmode Italia, per avermi offerto questa coppa per la recensione, se lo volete acquistare ragazzi, lo trovate in tutti i negozi di giochi da tavolo, perché ovviamente i prodotti Asmode, li trovate praticamente ovunque, andate in qualsiasi negozio, fumetteria, che vende giochi da tavolo, e sicuramente lo troverete, o comunque se non è il vostro commerciante, sicuramente lo potrà richiedere ed ordinare, grazie ancora una volta, ed è un gioco ragazzi, veramente interessante, non ve lo fate scappare, ciao a tutti, alla prossima, Ciao a tutti,